Gentile Presidente, cari consiglieri, il documento unico di programmazione che sottoponiamo oggi all'approvazione del Consiglio è il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione ed esplicita nella parte strategica gli indirizzi dell'amministrazione per l'intero periodo di mandato. Come illustrati dal Sindaco nella seduta comunale il 12 novembre 2021 orienta la programmazione e la gestione degli anni 23-25, triennio di riferimento del bilancio che trova descrizione nella parte operativa. Parte prima risanamento, ripartenza, rilancio sono gli obiettivi ai quali sono stati e sono orientate le nostre scelte. Le stiamo realizzando compatibilmente con gli ancora precari equilibri economico-finanziari rappresentati in positivo dal patto per Napoli, dal PNRR e da altre fonti di finanziamento. In negativo dal pesante disavanzo che nonostante l'importante miglioramento del 2022 è appena sotto i 2 miliardi dal debito finanziario del cronico deficit di riscossione. Il DUP si completa con una seconda sezione operativa parte seconda che si riferisce alla gestione vera e propria, alla programmazione del fabbisogno di personale, alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, alla programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici, il piano dell'elienazione e valorizzazione dei beni immobili patrimoniali, il PAVI. Al centro di questa programmazione ci sono soprattutto le scuole, gli impianti sportivi, le infrastrutture di trasporto e stradali, i beni immobili di proprietà, le strutture e i siti di interesse culturale, la riqualificazione e rigenerazione urbana, l'inclusione sociale, il contenimento del degrado, il potenziamento degli impianti e dei servizi del ciclo integrato e dei rifiuti dell'acqua, la tutela dell'ambiente e la smart city. A questa programmazione si aggiungono nuove e significative azioni che stanno consentendo a Napoli di valorizzare e da crescere il proprio profilo nazionale ed internazionale. Si pensi all'unanime riconoscimento di Napoli come meta di destinazione turistica a livello mondiale, alla produzione di film e programmi televisivi che offrono un'immagine finalmente positiva della città, alla duplice presenza del Giro d'Italia e infine all'emozionante conquista dello Scudetto che è diventato un evento di tutti i napoletani e non solo, ma di portata internazionale. Viviamo un momento particolare della vita di Napoli che va colto in tutti i suoi aspetti e che necessita di un ulteriore salto di qualità strategica, programmatica e operativa. Gli obiettivi strategici sono sintetizzabili in cinque missioni. La città policentrica, ovvero un'amministrazione risanata economicamente e finanziariamente attraverso il pieno rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste nel Patto per Napoli, una macchina amministrativa più efficiente e profondamente riorganizzata e tecnologicamente attrezzata. Sono queste le principali condizioni necessarie per offrire servizi migliori ed adeguati dalla visione strategica con particolare attenzione ai giovani e al loro futuro. Secondo, la città dello sviluppo. Lo sviluppo della città e del territorio è intrinsecamente legato alla capacità di Napoli di diventare il fulgolo culturale ed economico dell'Europa mediterranea. Si colloca in questa prospettiva l'opzione di alzare qualitativamente l'offerta turistica all'altezza di una capitale europea e metropoli globale. Ciò significa investire in cultura, arte, produzioni locali, ricettività regolata, mobilità sostenibile. Terzo, la città della rigenerazione urbana. Il governo e la valorizzazione del territorio rappresenta per Napoli un obiettivo rilevante e complesso. Se pensiamo alla città del futuro, dobbiamo farci carico della qualificazione delle nostre periferie urbane, anche attraverso una migliore gestione del patrimonio immobiliare comunale, della conservazione dell'identità sociale del centro storico. Una particolare nuova attenzione va posta all'ambiente e alla transizione ecologica. Quarto, la città vicina ai cittadini. La qualità della vita dei cittadini è per noi un obiettivo primario, dalla nascita attraverso un'offerta educativa e formativa fondata sul sostegno alle famiglie e sulla riqualificazione delle strutture scolastiche, al benessere psicofisico, in ogni età attraverso un'offerta di strutture sportive e ricreative adeguate alla sicurezza urbana, fondata contemporaneamente sul principio di libertà e di legalità, secondo quel principio di anarchia regolata prospettato dal sindaco, che ben coglie il sentimento profondo della città e che si esprime anche questo sentimento profondo nel momento del commiato e nel ricordo che ci impegna la dignità dei luoghi e di culto dei defunti. Quinto, la città dei più fragili. Napoli ha forti contraddizioni sociali e necessita di un welfare inclusivo e coeso che consente un vero contrasto alle disuguaglianze e alla discriminazione di qualsiasi genere e tipologia. Dedicare attenzione alla salute dei cittadini fa parte di questa progettualità. Per realizzare questi indirizzi strategici nel DUP sono previste le linee programmatiche e le conseguenti azioni, molte delle quali già avviate nel primo anno di amministrazione della città. Mi limito qui ad alcuni accenni sintetici ripercorrendo le cinque missioni strategiche. Nell'ambito della città policentrica sono state poste le fondamenta del risanamento finanziario del Comune attraverso la sottoscrizione con il Governo dell'Accordo per il ripiano del disavanzo e rilancio degli investimenti, il cosiddetto patto per Napoli. Le cui impegnative misure sono state concretamente avviate e gli obiettivi previsti per il 22 sono stati tutti realizzati. In particolare l'istituzione della fiscalità prevista, ovvero l'addizionale e la tassa di imbarco. Il controllo e la riduzione programmata dell'indebitamento che ammonta a fine 22 a 1,9 miliardi dai 2 e 2 del 21 a cui si esplicitamente finalizzate le risorse del patto e che costituiscono dal 24 la sola entrata dei finanziamenti statali. Il monitoraggio e la ridegoziazione del debito finanziario che ammonta complessivamente a 2,4 miliardi perseguendo nel criterio adottato nel 22 con cassa depositi e presidi che ci ha permesso un alleggerimento del peso della rata annuale che si aggira attorno ai 150 milioni. La valorizzazione del patrimonio attraverso l'avvio del conferimento di 600 immobili al Fondo Napoli, la riduzione dell'elevata morosità e la regolarizzazione delle posizioni da raggiungere attraverso una specifica normativa anche comunale indirizzata alla mediazione a partire da chi si occupa di sociale. L'attuazione di piani di dismissione degli immobili che non rientrano iniziative suddette anche attraverso la definizione di un processo che prevede il riscatto delle abitazioni da parte degli inquilini ERP con un supporto anche del sistema bancario. In tale prospettiva riteniamo utile costituire una società partecipata specifica di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Nel contempo va implementata l'attività di manutenzione anche con finanziamenti ad hoc da individuare oltre alle disponibilità di bilancio la messa a punto di accordi quadri l'aggiornamento dei regolamenti. L'affidamento con gara alla città-municipi obiettivo valore della riscossione sollecitata e coattiva. Dall'attuazione del progetto ci si attende un incremento cumulato delle entrate ma soprattutto alla conoscenza dell'ampia platea degli evasori che produrrà un incremento strutturale della riscossione ordinaria di muetari. La transazione dei debiti commerciali che si è positivamente conclusa e dalla quale deriva l'obiettivo di accorciare sensibilmente i tempi di pagamento rispetto alle ancora eccessive lentezze. L'individuazione della linea di indirizzo sul riordino delle partecipate alla cui definizione è oggetto di discussione anche in questa occasione. Il programma strategico di riequilibrio finanziario e rilancio dell'attività del Comune richiede un indispensabile efficientamento organizzativo attraverso la rivalutazione della distribuzione delle competenze in particolare tra la gestione centrale e quella di prossimità ai cittadini svolta nelle municipalità e quella di competenza delle partecipate anche mediante riforme regolamentari il conseguente riordino degli uffici e il miglioramento delle politiche di gestione del personale sia attraverso la valorizzazione delle risorse già in servizio sia attraverso assunzioni mirate in settori strategici dell'amministrazione in primi centrate patrimoni e gestione finanziaria. Alla fine del 22 è stato dato avvio per la prima volta dopo anni ad un'ampia tornata concorsuale che consente dalle prossime settimane di mettere in servizio il nuovo personale. Un valido contributo al piano di sviluppo e di ripartenza della città è fornito dai giovani perché capaci di promuovere un modo di essere attivi e protagonisti e di sollecitare forme mutevole di aggregazione e di socializzazione, anche culturale, valorizzando ciascun membro della comunità. Il forum dei giovani della città di Napoli istituito con deliberazione del Consiglio Comunale il 31 gennaio del 23 promuove l'interazione sinergica con gli altri forum giovanili presenti nel territorio regionale e nazionale favorendo la partecipazione a bandi di concorso nazionale ed europei di finanziamento che prevedono la progettazione partecipata. La rete dei centri giovanili si rivolge soprattutto nei quartieri periferici della città per mettere in rete la creatività e l'innovazione presente nella città napoletana ed è avviata la procedura di affidamento per la cogestione del centro di via Menzinger al Vomero di Nagioia, la Soccavo e Sandro Pertini e Secondigliano. Rappresenta un successo l'aggiudicazione del premio Città Italiana Giovani 23 e il finanziamento del progetto Infinity Mondi Napoli Innovation City. Nell'ambito della città dello sviluppo si è avviato un amplissimo programma di investimento attraverso il pieno utilizzo delle risorse del PNRR che al primo marzo ammontano a circa un miliardo e 50 milioni, 705 dal PNRR per la realizzazione di 81 progetti, 184 dal piano nazionale di complementare, 85 dal programma di sostegno obiettivi PNRR e 74 dal piano delle scuole città metropolitana. Risorse che toccano tutti gli aspetti in cui si articola la vita cittadina descritti negli obiettivi, in particolare lo sviluppo del tessuto socio-economico, i temi afferenti alle attività produttive e al turismo, come detto ai giovani, sono alla base del rilancio del tessuto cittadino. Le politiche del lavoro hanno come scopo la inclusione sociale e il contrasto alla povertà, la creazione di impresa. Un ruolo fondamentale lo svolgono la formazione e lo sportello del microcredito e vulcanicamente dal talento all'impresa, progetto volto a promuovere talenti e idee da trasformare in start-up. Particolarmente importanti sono interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di grado urbano, l'attivazione dei progetti del commercio e la valorizzazione dell'artigianato locale di qualità, le attività storiche e il food di eccellenza. Il tavolo tecnico-politico istituito lo scorso anno dovrà affrontare la revisione e l'adeguamento dei regolamenti, dei procedimenti autorizzatori, anche sulla base delle linee guida per la regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico e per lo snellimento delle procedure di rilascio e delle relative concessioni. L'amministrazione sta dedicando particolare attenzione al rilancio della mostra d'oltremare, delle terme di Agnano e della ristrutturazione dell'area mercatale e dei mercati rionali. La significativa affluenza di turisti conferma che il settore turismo rappresenta uno dei grandi asset per lo sviluppo di Napoli. I dati del 22 attestano che è stata la sesta città d'Italia per produzione di fatturato legato al turismo, pari a 1 miliardo e 400 milioni, con un riflesso positivo anche in termini di incremento dei posti di lavoro. L'occupazione media delle Camere nel periodo estivo ha superato l'80% e nel solo periodo tra Natale e Capodanno è stata rilevata la presenza di 600 mila turisti, facendo registrare alle strutture ricettive lunghe permanenze. Napoli è dunque una destinazione di riferimento nel Mediterraneo e nel contesto nazionale e mondiale. Ciò comporta lo sviluppo e gestione dei flussi, basata su un turismo consapevole e sostenibile per gestire la pressione che il fenomeno esercita sulle città affinché Napoli sia valorizzata senza che ne sia lesa l'identità. A riguardo è in corso un confronto con la sovrintendenza sull'ipote di sottoporre a vincolo alcuni siti e strade, al fine di salvaguardare il patrimonio cittadino come ad esempio San Gregorio e Armeno. Bisogna anche favorire la nascita di altri poli attrattivi. Per meglio gestire i flussi e l'offerta di servizi nasce l'osservatorio del turismo che ci offrirà tutti i dati necessari. Un piano di trasporti della mobilità coordinato con il piano energetico e ambientale vede il territorio di Napoli aperto alla modernità, l'innovazione e la transizione energetica. Obiettivi concreti riguardano tra l'altro la riduzione dei tempi di attesa dei mezzi pubblici conformando i livelli delle città europee, la limitazione del numero di ingressi quotidiani di auto in città rendendo competitivo il pendolarismo con i mezzi pubblici, l'implementazione della rete di servizi per contenere l'esigente di spostamento e il potenziamento delle reti di mobilità alternativa. Pertanto anche grazie all'opportunità offerta dal PNRR che il Comune sta via via cogliendo proseguiranno gli interventi volti al completamento delle linee 1 e 6 della metropolitana e l'avvio della realizzazione della linea 10, oltre all'incremento e all'amodernamento delle flotte di treni e bus ecco compatibili, dell'ottimizzazione dei servizi collegati, semaforica, parcheggi, reti ciclabili, sharing mobility. Nel contempo si accelera l'inserimento dei nuovi treni e a breve si apre il nodo di piazza municipio e il sottopasso per la marittima. Per quanto concerne gli autobus elettrici è stato acquisito il finanziamento a valere su risorse PNRR per la fornitura di 253 autobus. La prima delle previste tre tranche avverrà entro la fine del 23, le altre due tranche nel 24 e nel 25. Il descritto intervento comporterà il rinnovo di gran parte della flotta di autobus. Riguardo alle infrastrutture stadali è stato completato il 70% dei cantieri, si sta anche provvedendo alla toponomastica e alla georeferenziazione e al ripristino delle linee trambiarie. La cultura è uno dei grandi asset di Napoli e costituisce una delle risorse fondamentali per lo sviluppo e la crescita sostenibile del territorio e della collettività amministrata, generando non solo valore economico ma anche sociale. Occorre quindi continuare ad investire, accrescendo nelle qualità, coniugando il senso del bello e della competenza, ma soprattutto il valore dell'inclusione che caratterizza Napoli. Sulla base di tale assunto è stato posto in essere un sistema strutturato di azioni volto alla valorizzazione dello straordinario patrimonio materiale ed immateriale, storico, artistico, monumentale e della vocazione in campo musicale in sinergia con le tante strutture e centri culturali, università, istituti di cultura italiani e stranieri, biblioteche, teatri, cinema, fondazioni, musei e associazioni, e privati cittadini, che da sempre fanno sentire la loro passione per i luoghi e i quartieri di Napoli in cui vivono. Dobbiamo quindi tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, di cui il Comune gestisce alcuni dei principali siti monumentali, anche attuando forme di paternariato pubblico e privato per alcuni di essi, al fine di ampliarne la fruizione, diffondere il patrimonio in campo musicale, creando le condizioni affinché Napoli possa affermarsi come capitale della musica, ospitando eventi musicali di grande rilevanza e sostenendo la formazione dei giovani in campo musicale. Lo scorso anno abbiamo rafforzato alcuni presidi storici della cultura e dell'identità napoletana, dal San Carlo al Mercadante, e valorizzato eventi anche in luoghi meno noti della città, incrociando ricchezza musicale, teatrale e audiovisiva, nella quale Napoli ha il primato nazionale. Numerosi gli eventi e i concerti già programmati allo Stadio Maradona in piazza del Plebiscito, come il concerto di Coldplay e quello di D'Alessio. Nell'ambito della città della rigenerazione urbana, il rilancio di Napoli e il rafforzamento della sua immagine passano in maniera considerevole attraverso interventi di rigenerazione e riqualificazione del territorio, del suo centro storico e delle periferie, allo scopo di restituire alla comunità spazi rinnovati, accoglienti e aperti, piazze, luoghi ad uso collettivo, beni e siti di interesse storico e culturale architettonico, anche ascrivibili al novero dei beni comuni e la conservazione e manutenzione degli arredi urbani a supporto dell'inclusione e del contrasto al degrado sociale e ambientale e della rivitalizzazione economica e sociale. In questa prospettiva è necessario rigenerare interi quartieri, dotando di nuovi servizi e infrastrutture a misura di cittadino, offrendo alternative consistenti di sviluppo di qualità della vita. A tal fine prevediamo l'approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale, da troppo tempo non ripensato, alla luce dei grandi cambiamenti culturali, sociali ed ambientali intercorsi. Molti sono i progetti di rigenerazione urbana pianificati e finanziati anche nell'ambito del PNRR e destinati alle riqualificazioni dei quartieri che prevedono la realizzazione di nuovi complessi e la parziale demolizione o la riqualificazione dell'edilizia esistente e di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, a sostegno del diritto all'abitare, come a titolo di esempio i programmi di recupero urbano di Ponticelli e Soccavo e il contratto di quartiere di pianura. Il tema casa quindi deve essere messo al centro delle politiche della città, con un focus dedicato perché oltre al recupero del patrimonio edilizio esistente occorre anche immaginare una nuova politica per la casa, per la città, un piano edilizio che garantisca non solo soluzioni ERP ma anche housing sociale, con interventi di tipo agevolato, valutando la possibilità di investire su area di messe un'opportunità anche di recupero urbano. Tra i tanti interventi in corso di progettazione e o realizzazione, segnalo gli interventi di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana di Scampia, dell'insediamento di Taverna del Ferro, dell'area di San Giovanni a Teduccio, con il diretto coinvolgimento delle comunità, del già citato albergo dei poveri, per il quale gare sono state già aggiudicate. Molti inoltre sono gli interventi in corso di realizzazione concernenti il recupero di siti importanti, anche di interesse culturale e monumentale, soggetti a specifici finanziamenti come il contratto istituzionale di sviluppo Napoli, centro storico, il grande progetto UNESCO e il piano sviluppo e coesione della città metropolitana di Napoli, il piano strategico città metropolitana, nell'ambito dei quali sono compresi il recupero dell'ex OPG, dell'ex convento delle Cappuccinelle, il riformatorio filangeri, dell'area Vergine e Sanità. Sono previsti anche importanti interventi dal punto di vista infrastrutturale, come il nuovo Santo Bono, che si realizzerà presso l'ospedale del Mare e Porta Est, fondamentale per risolvere un problema storico della città, ovvero il decongestionamento del polo di Piazza Garibaldi. Ai fini della riqualificazione del territorio e del decoro dell'area d'urbano va ricordato anche il progetto di rifacimento e rifunzionalizzazione di tutte le fontane storiche della città. Le prime due sono state completate, quella di Nettuno in Piazza Municipio e la Fontana del Gigante in Via Partenope. Con il citato progetto, altre 14 fontane storiche saranno nuovamente illuminate e funzionanti. Nell'ottica di prevenire l'esclusione sociale, intervenendo sui principali fattori di rischio individuale e collettivo e assicurare il recupero della massima autonomia delle persone, sono progettati in corso di esecuzione interventi manutentivi e di riqualificazione degli immobili comunali destinati a promuovere l'integrazione degli anziani non autosufficienti, delle persone disabili e dei senza fissa dimora. Nello specifico saranno realizzati gruppi di appartamenti autonomi dotati di strumentazione tecnologica innovativa, domotica, telemedicina, monitoraggio a distanza, atta a garantire l'autonomia degli anziani e delle persone con disabilità e in situazioni di grave marginazione e dei centri, servizi e stazioni di posta per i senza fissa dimora allo scopo di rispondere al bisogno di socializzazione e rifugio di urno, contesti protetti in cui la persona può recuperare o sviluppare delle proprie specifiche abilità. Nell'ambito degli interventi di salvaguardia dell'ambiente si colorano anche la definizione e gestione del catasto cittadino e degli impianti di ispezione degli stessi. La formazione ecologica del cittadino è il punto di partenza per affermare una cultura dell'ambiente e igiene urbana, attraverso un'operazione a largo raggio tesa a difesa del suolo, dal rischio geologico, dalla qualità dell'aria, ad affrontare i cambiamenti climatici e i consumi energetici, a realizzare gli interventi di bonifica dei siti inquinati, a valorizzare e tutelare il passaggio, il paesaggio e la risorsa mare, i servizi di igiene urbana e il verde cittadino. Le politiche di prevenzione e riduzione dei rischi del territorio si confrontano con l'articolata morfologia del territorio napoletano, che risente particolarmente dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici esterni che si ripetono in modo sempre più frequente. La previsione di interventi integrati, di sistemazione idraulica e idrogeologica risultano quindi essenziali ed urgenti. In questo quadro particolari interessi meritano le azioni di bonifica dei numerosi siti contaminati che insistono sul territorio cittadino, una parte consistente e ricompresa nei due siti di interesse nazionale, Napoli Orientale e Bagnoli Coroglio. La valorizzazione e la tutela del paesaggio rappresenta un altro importante obiettivo, da realizzare anche attraverso l'esercizio della delega conferita dalla Regione Campania, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, promuovendo pertanto uno sviluppo del territorio compatibile col paesaggio e favorendo interventi coerenti con la caratterizzazione dei luoghi rispettosi degli ambienti naturali esistenti. Significativi interventi ai fini della pianificazione ambientale e di gestione del territorio sono rappresentati dai cambiamenti climatici e dal contenimento dei consumi energetici e dal loro andamento rapido ed esponenziale, derivante della crisi energetica che si è manifestata nel corso del 22, in conseguenza delle vicende belliche in Ucraina e delle misure ad essa associate a livello internazionale, i cui effetti hanno provocato un sostanziale raddoppio dei costi a carico del bilancio comunale. Per fronteggiare questa situazione, l'amministrazione ha aderito al nuovo patto dei sindaci per il clima e l'energia, impegnandosi a raggiungere la decarbonizzazione del proprio territorio entro il 2050, fissando come obiettivo per il 2030 la riduzione del 55% dell'emissione di grasserra. È stato inoltre istituito un tavolo tecnico-scientifico composto da personalità ed accademici esperti delle diverse discipline economiche, tecnologiche ed ambientali. Un primo esito di questo lavoro è l'approvazione della delibera di indirizzo per il programma per il contenimento dei consumi e dei costi energetici del 23 marzo del 23, che individua le scelte strategiche e l'avvio delle attività conseguenti. Anche la tutela della risorsa mare costituisce un altro ambito strategico al quale dedicare la rinnovata attenzione per salvaguardare la risorsa blu e promuovere l'economia del mare in tutte le sue articolazioni. Gli aspetti principali riguardano le azioni di prevenzione dell'inquinamento, attraverso un attento monitoraggio degli scarichi su tutta la linea di costa per contrastare gli abusi, migliorare la qualità dell'acqua, salvaguardare la biodiversità, l'ecosistema marino e il litorale. In particolare l'amministrazione intende estendere la fruibilità del mare a tutti i napoletani, dalle aree a sud e a nord della città, con un deciso intervento sull'uso pubblico dei lidi e sulla balnearietà delle acque, a cominciare dalla linea di costa da pietrarsi alla pietra, attraverso un protocollo d'intesa con l'autorità di sistema portuale. La definizione dell'iter comporterà la responsabilità di un oneroso carico amministrativo, in merito alla gestione dei lidi e delle concessioni balneari, ma al tempo stesso rappresenta una straordinaria occasione di avvicinamento dei cittadini al proprio mare, oltre che una preziosa risorsa per il turismo. Infine il porto, prima industria della città, va rilanciato nella direzione della transizione ambientale, investendo nell'integrazione dei sistemi smart basati su energie rinnovabili e vanno recuperati e riqualificati i waterfront della città, a partire dalle aree e dei percorsi ora inaccessibili, come San Giovanni, Teduccio e Bagnoli, con attività turistiche, produttive, commerciali e formative, elementi fondamentali di rigenerazione urbana che investe tutto il territorio cittadino. Va perseguito il miglioramento strutturale del servizio di igiene urbana, puntando alla qualità e all'abbattimento dei costi, con la conseguente riduzione delle tariffe. Certamente perdurano ancora criticità, anche se non a livello emergenziale come nei passati decenni, in merito alla ridotta percentuale di raccolta differenziata, poco meno del 40%, e sensibilmente al di sotto del valore nazionale e regionale dell'obiettivo di legge, pari al 65%. A fronte di queste criticità sono state delineate e avviate azioni volte a determinare una filiera corta del compostaggio della frazione umida, mediante la relazione di impianti adeguati e volumi prodotti, creando anche un distretto dell'economia circolare nell'area metropolitana di Napoli. È previsto il potenziamento del servizio di spazzamento a seguito della fornitura alla società Asia Napoli Spa di automezzi più performanti e l'assunzione di nuovo personale. La salvaguardia dell'ambiente e della riqualificazione del territorio trovano piena realizzazione nella cura del verde pubblico. Pertanto si procederà ad un ripensamento della conduzione dei servizi e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde e del patrimonio arboreo, potenziando il progetto di AB manutentivo attraverso una dislocazione più omogenea sul territorio in rapporto al riassetto previsto delle partecipate, prevedendo anche il coinvolgimento dei privati, in particolare a partire dai parchi cittadini. Nell'ambito della città vicina ai cittadini trova priorità l'educazione e il diritto all'istruzione, da considerarsi un diritto inalienabile che deve essere pienamente garantito a tutti, attraverso un sistema integrato di servizi educativi dell'infanzia, programma 06, con l'obiettivo di raggiungere 33 posti nido ogni 100 abitanti. Agli anni della formazione scolastica media e superiore, aiutando le famiglie a sostenere questa necessità, anche al fine di contrastare la elevata dispersione scolastica. Per l'amministrazione è importante anche sostenere la transizione dalla scuola al mondo del lavoro, un ulteriore impegno educativo riguardo il sostegno agli adulti nel loro progetto di vita attraverso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Prioritario è riqualificare gli spazi scolastici esistenti attraverso il PNR e le attività manutentive di competenza delle municipalità. Sono in corso di avvio e di esecuzione interventi di recupero di 50 istituti scolastici, mediante l'adeguamento strutturale ed energetico per un investimento del valore di circa 100 milioni di euro. Un tale impegnativo programma deve realizzarsi in sinergia con tutte le altre istituzioni dedicate alla formazione, sia pubbliche che private, del terzo settore, alle chiese, agli istituti educativi. Importante in tal senso è l'adozione del regolamento dei patti educativi di comunità all'interno della cornice del patto educativo per Napoli Generazione Futura. Nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza del territorio dei cittadini si collocano le attività e le operazioni di soccorso di competenza della protezione civile, attraverso l'aggiornamento del piano generale di protezione civile, l'implementazione del piano per il rischio idrogeologico e idraulico, con la pianificazione relativa al rischio difesa coste, la realizzazione di esercitazioni a scala locale per testare le attività del centro operativo comunale in emergenza, un'adeguata azione informativa in merito al piano di protezione civile, anche mediante la relazione di incontri con la cittadinanza e con le scuole, l'implementazione della pagina protezione civile del sito web comunale e mediante applicazioni tecnologiche innovative anche real time. I fenomeni di grande e piccola illegalità diffusi nel territorio urbano esigono un piano rigoroso di sicurezza, di prevenzione e repressione, in quanto determino disagio e invivibilità, con riflessi negativi sullo sviluppo sano ed equilibrato del tessuto socio-economico cittadino, dando origine anche a fenomeni di violenza, condizioni di assoggettamento e restrizione della libertà. L'insicurezza, reale o percepita, e la sensazione di abbandono, gerno sfiducia nei confronti delle istituzioni. Per contrastare questi fenomeni e favorire una piena cittadinanza è stato sottoscritto in gennaio, tra il Ministro dell'Interno, il Presidente della Regione Campania, il Prefetto e il Sindaco, l'accordo per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata ed integrata per lo sviluppo della città di Napoli. Particolare attenzione inoltre continuerà ad essere dedicata alla gestione della vita notturna della città e della Movida, anche mediante l'attuazione di disposizioni contenute nei regolamenti recentemente approvati, quali il regolamento per la serena convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali di pubblici esercizi e di svago delle aree pubbliche e private, il regolamento di polizia e di sicurezza urbana. Vanno in questa direzione una maggiore presenza delle forze dell'ordine e della polizia urbana, il potenziamento del servizio di video sorveglianza. Un ruolo essenziale è svolto dalle istituzioni presenti sul territorio a partire da quelle scolastiche. La scuola va messa al centro dell'azione amministrativa in tema di contrasto alla illegalità, attraverso uno sguardo attento ai bambini e ai giovani, con interventi formativi, l'istituzione di laboratori di cittadinanza, favorendo la costruzione di reti di sinergia con le fondazioni di comunità e le associazioni. In relazione al programma educativo del Comune che abbiamo illustrato in altra parte del DUP. Ai fini di uno sviluppo locale integrato occorre anche avvalersi del riuso sociale dei beni confiscati e del patrimonio immobiliare non utilizzato per generare lavoro, welfare e cultura. L'utilizzo dei beni confiscati con la restituzione degli stessi alla collettività con funzioni sociali positive è un tema che riguarda in modo trasversale una serie di servizi e il conseguente avvio di attività dedicati. Lo sport a Napoli gode di una storia e tradizioni importantissime, ma svolge anche un importante ruolo sociale ed educativo che vogliamo potenziare. Per questo sono in corso investimenti e ne altri ne prevediamo. Innanzitutto per rendere agivi gli impianti esistenti. Un importante intervento riguarda la ristrutturazione della piscina a Bulgarelli, appoggio reale, chiusa da tre anni per inagibilità. Va inoltre in questa direzione l'accordo con la FIN e la candidatura di Napoli a capitale dello sport. Per favorire le attività sportive dilettantistiche e agonistiche va valorizzata la collaborazione tra le organizzazioni sportive e le scuole, attraverso la firma di protocolli di intesa con i dirigenti scolastici, finalizzata la concessione di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico. Soprattutto in questo campo va sviluppata la sinergia pubblico-privati, in particolare per gli spazi pubblici affidati ad associazioni e circoli. Un'attenzione particolare è dedicata ai cimiteri, che in particolare a Napoli costituiscono una viva memoria storica della collettività e rivestono per le loro rilevanze e universalità un ruolo importante nella cultura popolare della città. È doveroso perciò offrire un servizio comunale di qualità organizzato, efficiente, sensibile e rispettoso. Il drammatico evento vissuto lo scorso anno dovuto al crollo di alcune aree del cimitero di Poggio Reale, la cui operazione di recupero delle salme quasi ultimata, ha confermato l'esigenza e dove procede ad un piano di ristrutturazione dei cimiteri cittadini, anche in considerazione del fatto che ci sono molte cappelle abbandonate, tantissime di proprietà delle confraternite e alcune di proprietà private, in merito alle quali non sono effettuati interventi di manutenzione da troppo tempo, creando una condizione di rischio sia per la sicurezza collettiva sia per la qualità del culto dei defunti. Pertanto è necessario fare uno sforzo organizzativo e gestionale, oltre che finanziario, a partire dall'approvazione del piano regolatore dei cimiteri, del regolamento sui cimiteri e polizia mortuaria. Nell'ambito della città dei più fragili sono prioritari gli interventi su welfare, pari opportunità e salute. La riduzione del contrasto alle disuguaglianze e la diversità costituiscono obiettivi prioritari dell'azione amministrativa, perché le disuguaglianze ledono i servizi essenziali, mettendo a rischio le aspettative di ciascuno e colpendo l'identità morale della comunità. Le politiche sociali costituiscono un tema significativo, importantissimo per una città come Napoli, caratterizzata a molteplici accettature che riguardano i problemi della povertà, del disagio, del sostegno familiare, i problemi legati all'inclusione delle tante povertà educative e abitative materiali. Conseguentemente, l'impegno e gli sforzi dell'azione amministrativa hanno consentito di dare avvio ad un sistema strutturato di interventi, che vedrà un ulteriore sviluppo nel corso della presente programmazione e delle prossime, finalizzato, come già detto nel capitolo della rigenerazione urbana, alla sistematizzazione e al consolidamento delle misure attuate in favore dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili, nei loro contesti familiari e degli interventi dedicati senza fissa dimora ai migranti, potenziando i servizi di cura e assistenza, rafforzando gli interventi di inclusione, sostenendo la genitorialità, migliorando le infrastrutture presenti sul territorio e valorizzando le attività ludico-ricreative e culturali educative. Importanti azioni hanno riguardato nello specifico il tema dell'emergenza e del disagio in strada vissuto da tanti homeless, un tema complesso che non si risolve solo con i pur necessari posti letto e pasti caldi, ma che richiede di coniugare inclusione e sostegno, sicurezza e decoro. Così per l'accoglienza dei migranti irregolari, per i quali è stato firmato un accordo molto importante con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, finalizzato alla perdura in città di un primo sportello unico gestito dall'Agenzia, per un'assistenza completa. L'esperienza maturata con l'emergenza ucraina, in occasione della quale Napoli ha dato una risposta considerevole, con una grande mobilizzazione non solo delle istruzioni, ma anche delle famiglie e delle associazioni, ha confermato che è necessario potenziare gli strumenti di accoglienza, rafforzare le sinergie con le istituzioni e le agenzie governative internazionali, perché l'accoglienza non è carità, ma è organizzazione e in tal senso che occorre continuare a lavorare, anche a seguito di significative risorse ottenute col PNRR, affinché il sostegno continuo e organizzato possa dare asilo concreto a chi ne ha bisogno. Si è avviato un tavolo di lavoro sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza e sono state attivate misure di riduzione della sparità di accesso a servizi e tutela delle famiglie e delle fasci di popolazione più fragile. Importante è la riqualificazione e l'adeguamento impiantistico dell'edificio di via Cleopatra, dell'immobile di via Letraiano per la realizzazione di gruppi e appartamento per anziani e disabili, housing first, dell'immobile di via Brigata Bologna per la realizzazione di gruppi e appartamento per disabili, in via Aquila per la realizzazione di stazioni di posta, la coprogettazione del terzo settore sugli immobili comunali inutilizzati di piazza Garibaldi per l'erogazione di servizi di interesse generale rivolti al contrasto della povertà assoluta, servizi di vicinato, attività culturali. La salute è un diritto fondamentale che va salvaguardato e garantito anche mediante azioni di prevenzione di contrasto alla povertà sanitaria, di tutela delle donne e delle fasce più deboli, di assistenza specializzata alle persone con disagio psichico. È previsto il potenziamento delle reti dei servizi sociali e assistenziali e l'integrazione dei servizi sanitari con gli interventi socioassistenziali, il rafforzamento del rapporto tra il Comune e il terzo settore, l'ampliamento dell'offerta degli sportelli di segretariato sociale e dei centri sociali polivalenti, la realizzazione di progetti bandiera nelle aree più marginate della città, l'erogazione di contributi economici in favore di fasce di popolazione economicamente svantaggiate, la realizzazione di azioni di prevenzione del disagio minorile della popolazione anziana, la realizzazione di progetti personalizzati destinati a persone con abilità diverse per restituire loro autonomia e una vita indipendente e il potenziamento dei progetti del dopo di noi e del durante noi. Una particolare attenzione va dedicata a promuovere la prevenzione e contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni attraverso il rafforzamento dei centri antiviolenza comunali, la creazione di una rete di centri di servizio territoriali mediante risultati di presidi municipali, l'attivazione dei cosiddetti ospeciali di comunità e delle case di comunità, lo sviluppo della telemedicina, l'assistenza alle persone con disagio psichico, il sostegno a iniziative di screening rivolte alle fasce più vulnerabili di educazione alimentare alla salute, i servizi di cura domiciliare per i soggetti over 65. La sensibilità a tutte le fragilità ci stimola a non trascurare la tutela degli animali a sostegno e promozione della convivenza e per combattere il fenomeno del randagismo. Presidente, consiglieri, abbiamo illustrato una sintesi indicativa dell'approccio programmatico sostenibile dell'amministrazione comunale illustrato nel dettaglio nel DUP. Si tratta di un programma molto impegnativo e necessario. Da un'attenta analisi dei contenuti programmatici emerge una considerazione generale in ordine alle politiche di bilancio. Se da un lato le nostre già rilevanti difficoltà economiche sono aggravate dagli effetti della crisi economica e dell'aumento dei prezzi, dall'eccessiva presenza di evasione e murosità e dalla difficoltà di riscossione, il che rende difficoltosa, se non impossibile in alcuni casi, la realizzazione di tutte le iniziative presenti nel DUP, dall'altro esse ci appaiono non solo necessarie ma indispensabili e per certi versi addirittura contenute ed urgenti, se vogliamo fare di Napoli la grande città europea e moderna che vogliamo sia. Il patto per Napoli e il PNRR ci sono venuti in aiuto in modo consistente, ma non sono sufficienti, sia perché le risorse del patto vanno destinate alla riduzione del disavanzo, sia perché il PNRR non copre tutti i campi di intervento necessari, perché prevede costi aggiuntivi che sono finanziati solo col bilancio comunale, con laudi, manutenzione e gestione. Peraltro la sola gradualità degli interventi distribuiti in un'ottica pluriannale comunque necessaria e utile, in particolare per quelli di investimenti e di manutenzione, non risolve il nostro problema. Serve allora, dopo un anno e mezzo dall'insediamento, durante il quale abbiamo fatto molto, ma abbiamo anche imparato molto, definire una strategia di bilancio che ci aiuti a risolvere la contraddizione tra la necessità e l'urgenza di spendere e la insufficiente disponibilità del bilancio comunale a finanziare. Tanto più se le attese sono tutte contemporaneamente caricate nella sessione primavera-estate, che avviene dopo mesi di esercizio provvisorio, nei quali, nonostante i vincoli, si attuano necessari ma numerosi prelievi e variazioni di bilancio che riducono la prevedibilità e la programmazione. Credo quindi necessario impostare una nuova politica di bilancio che superi le rigidità della scadenza annuale, caricata di eccessive attese e vincoli e assuma come prassi una visione e un approccio dinamico, flessibile e progressivo. In sostanza si tratta di decidere insieme, Consiglio, Comunale, Municipalità, Giunta e Uffici, che la sessione di bilancio è un percorso costante e che quelli che oggi chiamiamo assestamenti, vissuti in tono minore, costituiscono invece vere e proprie manovre di miglioramento della gestione complessiva. Già in questo frangente dobbiamo agire per rendere il più possibile flessibile contenuta la spesa che grava sul bilancio comunale, in modo a creare spazi di compensazione e riequilibrio, prevedendo oltre la sessione che completeremo in Consiglio tra prochi giorni, la sessione di aggiornamento di luglio, dedicata in particolare a un ulteriore finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria agli investimenti, da finanziare con risorse specifiche che nel frattempo maturano ma che attualmente non possono essere iscritte al bilancio. Parlando di Napoli, il Sindaco usa spesso termini come capitale, europea, moderna, sensibile, accogliente, efficiente. È a questi obiettivi che tende la nostra azione quotidiana. Le poche risorse disponibili, le difficoltà organizzative ancora presenti e anche via di miglioramento non costituiscono per noi un alibi per rinunciare o ridurre il nostro impegno. Aumenteremo gli sforzi personali e collettivi, dedicheremo maggiori energie e disponibilità contiando sulla piena collaborazione del Consiglio e delle strutture e ci riusciremo.